All'interno del Parco Miralfiore, che è il polmone verde cittadino, c'è un'oasi naturalistica spesso nascosta alla maggior parte dei cittadini. Parliamo del laghetto interno al Parco Miralfiore, che è un'area normalmente chiusa al pubblico e aperta a determinate visite naturalistiche e culturali, soprattutto dedicate alle scuole. Ma ora si vuol fare qualcosa di più. Il comune ha deciso di fare un investimento per rendere più accessibile, più sicura quest'area, sempre più frequentata un'area che è la casa di diverse specie faunistiche, ad esempio quella del marangone, che è una specie volatile che nidifica qui, ma anche altri uccelli, le nutre, le oche sono di casa qui. Il comune lavora anche per rendere sempre più fruibile questo luogo da parte dei cittadini, degli studenti, delle scuole, un luogo sul quale si è deciso di effettuare anche uno stanziamento dopo l'ultima variazione di bilancio, come ci spiega l'assessore Enzo Belloni. Devo dire che crediamo molto nel Parco Miralfiore, nella sua vivacità. Uno dei punti più belli ovviamente è il laghetto, che è un'area non aperta al pubblico ma visitabile con accompagnatore, molte classi vengono, uno o due classi al giorno ci sono, e abbiamo deciso appunto di impegnare parte, no parte, le risorse ottenute con l'ultima variazione di bilancio per realizzare la palistata attorno al laghetto. Nel frattempo avevamo già sistemato le pompe, quelle per dare ossigeno all'acqua del lago. La compenetrazione che questa zona umida offre fra l'ambiente urbano, un ambiente naturalisticamente così pregevole, è unica. Vuol dire poter portare dei ragazzini e fare veramente cultura. Pesaro si è giudicata il titolo di Capitale Cultura del 2024 con questo progetto che ha una fortissima attenzione alla cultura. Ecco qui, proprio grazie soprattutto al lavoro di chi porta i ragazzini, si fa veramente cultura, cioè si crea un abito mentale, un sistema di valori, di percezioni, di idee che vanno a toccare proprio la relazione dei bambini, dell'uomo con una natura in un ambiente umido che ripeto, basta guardare la varietà della vifauna e non solo, l'avete poi anche riprese. Quindi è un patrimonio che deve essere sempre più curato in prospettiva per sfruttarlo al massimo nella sua funzione sia ambientale sia culturale. L'ambientale parla da solo all'immagine, le specie che stazionano qui e nidificano qua. Dal punto di vista culturale, ripeto, la fruizione è quello che si lascia ai ragazzini che possono venire davvero senza prezzo. E l'intervento sul laghetto è solo l'ultimo di tanti interventi effettuati in questi anni nel Parco Miralfiore. Sul parco abbiamo anche installato quattro nuove telecamere di sorveglianza all'ingresso. Avevamo realizzato il Parco Giochi inclusivo e implementato anche gli altri giochi grazie al contributo di Avis. Nel frattempo la stagione estiva darà la possibilità a diversi spettacoli di svilupparsi nell'anfiteatro del Parco Miralfiore. Ci sono vacanze estive che fanno alcuni gruppi, alcuni enti di promozione sportiva. Gli scout che sono venuti più di un gruppo a dormire per due notti nel parco, quindi tante attività per renderlo sempre più vivo, vivibile e piacevole.